salve ragazzi benvenuti a un nuovo tutorial su android studio nel precedente tutorial abbiamo parlato di intent esplicito cioè come richiamare le applicazioni passando i dati vediamo un pochettino adesso invece un intent di tipo implicito ho creato uno screen che vedete qui in cui ci sono semplicemente tre pulsanti cliccando sul mio primo pulsante desidero che mi si apra un app come youtube direttamente nel mio canale oppure comporre un numero telefonico oppure inviare un messaggio chiudo l'applicazione e andiamo a vedere come farla ho creato il mio progetto questa è la lo screen con i tre pulsanti un semplice linear layout come potete vedere in cui ci sono i tre pulsanti quindi all'interno del primo linear layout o un button che ho chiamato bottone 1 al cui interno c'è il testo riportato all'interno di string in bottone 1 vado in string bottone 1 il mio canale infatti qui vedete c'è scritto il mio canale secondo linear layout questo è il secondo bottone il suo id è bottone 2 è la stringa in essa contenuto come testo è bottone 2 che prendo da string xml bottone 2 chiamata speciale andiamo in di nuovo nell xml altro linear layout questa volta il bottone si chiama 3 è al suo interno nella string string name bottone 3 c'è invia messaggio quindi io avrò questo formato al nel mio display non mi dilungo a creare ogni volta lo screen nel formato xml perché dovreste essere già in grado di farlo compresi linear layout ma anche il layout constrain cioè quello con i vincoli che posizioniamo quindi vado velocemente e passo alla main activity all'interno della main activity prima cosa da fare come già sapete è quella di andare a dichiarare i miei tre pulsanti quindi vado col primo button visto che il primo bottone va sul mio canale lo chiamo canale uguale button find vado veloce perché già conoscete r punti di punto bottone 1 vado di copia e incolla questo per il secondo e questo per il terzo il bottone 2 andava a fare una telefonata quindi lo chiamerò chiama e il terzo scriveva un messaggio quindi lo chiamo scrivi ed è associato al bottone 3 andiamo a vedere cosa succede con gli onclick partiamo dal primo button canale canale punto set onclick new view onclick listener si mette in ascolto e cosa fa appena premiamo questo pulsante dobbiamo creare un intento quindi intent visto che lo possano posizionare sulla mia pagina la chiamerò mia pagina che sarà uguale a un new intent apriamo la parentesi cosa abbiamo intenzione di fare abbiamo intenzione di lanciare un intent punto guardate quanta azione ci sono fra tutte queste azioni noi dobbiamo andare a guardare quindi abbiamo un action se vado a cercare sotto in ordine alfabetico trovo una action view ce ne sono tantissime noi qui ne vedremo soltanto tre perché teoricamente sono quelle più usate action view virgola uri uri punto pars e qui dentro andremo a mettere l'indirizzo www della pagina che desidero visualizzare questa qui dovreste conoscerla punto e virgola subito dopo lanciamo la start activity che si chiama mia pagina quindi cosa ho fatto ho richiamato un intent la cui azione è view cioè visualizza qualcosa cosa deve visualizzare deve visualizzare la pagina che si trova questo indirizzo vogliamo provare lanciamo qui non fa nulla in questo momento se clicco su il mio canale vedete che in automatico si posiziona sulla pagina che io gli ho indicato questo tipo di intent torno indietro e chiudo vi ricordo che è implicito perché noi stiamo richiamando un'azione che già è stata programmata da qualcuno faccio la stessa cosa per le altre due azioni cambiando però il tipo di azione la seconda è il secondo button chiama punto set on click listener new view on click listener questa volta questa volta creo un intent visto che effettuerà una chiamata la chiama telefona che sarà uguale a un new intent 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 punto action deal telefona virgola uri punto parse chi deve chiamare deve chiamare al telefono due punti il numero di telefono che devo comporre io devo telefonare a 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 telefonerò a questo numero punto e virgola andiamo con start activity telefona lo proveremo dopo in modo da lanciarlo una sola volta vado con l'ultimo delle mie possibilità che scrivi scrivi punto set on click listener new view on click listener questa volta il mio intent lo voglio chiamare visto che devo scrivere messaggio uguale uguale new intent intent punto action send devo inviare questa volta non dobbiamo specificare l'uri però intent intent ha una serie di parametri quindi il mio intent che si chiama messaggio punto put extra devo mettere a chi voglio mandare questo messaggio intent punto extra in mezzo a tutti questi extra ci deve essere un extra mail extra mail virgola ora apriamo le virgolette a chi mandiamo questo messaggio questo messaggio io lo voglio mandare all'amica del cuore amica del cuore ho dimenticato ho dimenticato una messaggio messaggio ancora punto punto extra questa volta questa volta è intent punto extra text virgola cosa voglio scrivere cara amica ti penso con affetto e spero di vederti presto diciamo ancora diciamo ancora che questo messaggio punto set type questo messaggio è di tipo text play vuol dire che è un testo semplice un messaggio scritto in modo semplice non ci sono caratteri particolari non ci sono emoticon non c'è niente chiudiamo e abbiamo terminato andiamo a vedere cosa accade lanciando la nostra applicazione allora il mio canale l'abbiamo visto poco fa va a richiamare la mia pagina con l'indirizzo che io ho messo all'interno di UriParse questa funzione vi ricordo che viene attivata così l'intento a cui ho dato un nome il mio canale è un action view cioè mi fa vedere una pagina in questo caso potrebbe farmi vedere delle immagini anche o dei documenti ma in questo caso io gli ho dato l'indirizzo del mio canale vado indietro chiamata speciale a chi voglio chiamare voglio chiamare a questo numero di telefono quindi è un intento action deal torno indietro invia messaggio invia messaggio certo che non funziona così avete trovato l'errore? manca la start activity start activity che si chiama messaggio proviamo di nuovo benissimo questa volta ci siamo mi propone di mandare il messaggio via bluetooth oppure attraverso messaging che è un'applicazione per inviare messaggi clicco mi chiede sempre una volta sola credo che voi lo abbiate provato tante volte sul vostro telefonino ci metto solo per questa volta ecco qua il mio messaggio che andrà indicata alla mia amica del cuore e che contiene il testo che io avevo scritto e che volendo posso modificare chiaramente inviando in questo momento non c'è nessun riferimento a questa amica del cuore non c'è un'email a cui inviare o un numero di telefono a cui fa riferimento l'app di messaggistica per cui inviandolo mi dice non lo può inviare prova ancora noi non proviamo torniamo indietro per uscire dalla nostra applicazione devo ancora farvi vedere qualcosa quando lancio l'intent relativo alla chiamata viene attivata questa applicazione per poter telefonare mentre lanciando l'intent per inviare il messaggio mi dà la possibilità di scegliere tra share with messaging e bluetooth ma se io volessi un altro tipo di applicazione vabbè è normale questo è così perché in questo telefonino io ho installato soltanto queste applicazioni se vado a vedere le applicazioni installate come vedete di messaggistica ho soltanto questa di telefonate ho soltanto phone eccetera eccetera è chiaro che se io avessi più applicazioni installate su questo dispositivo virtuale lui mi proporrebbe in automatico si dice per default tutte le app che soddisfano al tipo di action quindi ci sono delle app che soddisfano l'intent action send oppure l'action deal o l'action view più applicazioni ci sono installate all'interno del nostro dispositivo maggiore saranno le possibilità di scelta che è di cui si dispone abbiamo detto che questo tipo di intent cioè questo che abbiamo utilizzato è un intent implicito ma l'intent implicito per eccellenza è quello che ci fa partire la nostra applicazione quando io vado a attivare attraverso il triangolino verde qui la mia applicazione l'applicazione parte ma come fa a saperlo da dove deve partire andate nell'area progetto all'interno di app abbiamo la cartella manifest all'interno della cartella manifest troviamo android manifest xml la apro piccolo in questo caso file con il formato xml che specifica qual è l'applicazione che deve partire quando io la lancio ci sono alcune caratteristiche particolari per esempio vedete l'applicazione appartiene al package progetto intent implicito perché la mia applicazione quando ho creato il progetto l'ho creato così mi dice che l'etichetta di questa applicazione è intent implicito e la sua icona è questa icona che già è pre impostata se vado a prendere il mio cellulare vedete è questa la sposto quindi questa mipmap ic launcher icona è questa icona qui la label è quello che c'è qui sotto che non vedete per esteso perché è scritto più piccolino ancora all'interno di questo file ci sono le attiviti che possono essere fatte all'interno della mia app in particolare di questa di progetto intento implicit qui c'è soltanto questo cioè quando vado a premere lo start cosa devo fare? devo lanciare il main lanciare il main ora in effetti a un'app io posso associare un'attività ma all'interno di questa attività io posso avere posso dichiarare cosa che qui non è stata fatta della richiesta di permessi cioè se io intendo utilizzare internet direttamente devo richiedere il permesso se voglio accedere ai contatti telefonici dovrò chiedere qui dentro i permessi vi mostro una pagina internet qui dove potete trovare tutto quello che riguarda le azioni possibili da inserire all'interno del manifest le varie attività il modo per poter richiedere i permessi per esempio e un'altra serie di attributi che magari andando avanti con il corso avremmo modo di vedere questo era per farvi capire che gli intent impliciti sono molto ma molto utilizzati per lanciare o per collegarsi ad applicazioni esterne detto questo io vi saluto spero di essere stata chiara se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e ci vediamo al prossimo tutorial